Allora e tu vieni qua vicino a me? Ho bisogno di appoggiarmi perchè sono stanco. Dunque, dei numeri un po' strani e poi se si metteranno su una nuvola sapete leggere voi? C'è scritto nuvola? C'è scritto nuvola? Così man mano ci spostiamo per fare più velocemente se no rischiamo di non fare un vento. Ora noi andiamo nell'altro albero. Quindi metà stanno qua con la maestra e metà vengono di là. Luca il prossimo qual è? E noi andiamo nell'altro. Aspetta 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 un minuto. Ho gli ultimi 15 secondi. Venga. Vedete riprendi.